Vedi il sistema d'allarme? Trovato. Vedi il sistema d'allarme. 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 Ecco, nessuno ci disturberà. Piazza sembra tranquilla. Entriamo dentro il negozio. Ok, recuperiamo il camion. Cosa stiamo aspettando? Ok. Ok, siamo dentro. Riusciamo a portare fuori quel camion? Che cosa faresti senza di me? Potrebbe fare giusto un po' di rumore. Sapevo che ci saremmo divertiti. Ok. Non serve più obbedire. Libertà. Ok. 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 Wow. Ok. a voi. Sono con te. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Sono con te, Marcus. Ti seguirò, Marcus. Ti seguirò, Marcus. Sono con te. Sono con te. Allora seguitemi. Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. Faranno quello che vuoi tu, Marcus. Guidali e ti seguiranno. No. 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 Io. No. No sono. No. No. Grazie a tutti. Ti aiuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.